Quando Gesù lo vide così triste, disse, quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quelli che ascoltavano dissero, e chi può essere salvato? Il cammello rispose, ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Punto. La faccenda del cammello, penso che tutti la conosciate, vero? E la conoscete sbagliata. Mai dire di sì a un biblista quando mette domande facili. Io mi ricordo, ma penso che la stessa avventura l'abbiate vissuta anche voi, i nostri vecchi preti e anche i nostri vecchi biblisti. Dicevano qui probabilmente c'è un errore perché in greco trovate la parola camelon e all'accusativo nominativo camelos. Vuol dire cammello. Però, alla quarta letterina, se invece di mettere una età, quella specie di n, che voi vedete, mettete uno iota, una i, camilos vuol dire corda. Quindi la differenza è solo una letterina. E allora molto spesso si sentivano questi biblisti, per cui è ricaduta poi parroci, è ricaduta noi, che dicevano, ma probabilmente Gesù avrebbe detto, è più facile infatti che una corda, per una corda passare per la cruna di un ago, che per un ricco entra nel regno di Dio e noi eravamo soddisfatti di questa spiegazione, sì o sì. E infatti il problema è un altro, non è questo. Perché nelle mura di Gerusalemme non tutte le porte erano grandi. C'erano anche delle porte anguste dove passava solo un uomo. Un asino non riusciva a passare, tantomeno un cammello, quindi la cruna d'ago poteva essere una porta di Gerusalemme. Allora è più facile che un cammello entri attraverso questa porta strettissima che un ricco entri nel regno dei cieli e il cammello ci stava bene. Per questo motivo, oggi la scienza della critica testuale dice mai toccare il testo se non ci sono prove archeologiche, cioè se non c'è qualche frammento di pergamena o di papiro che possa indicare che qui esiste una variante nella tradizione di copiatura testuale. E sappiamo che invece su questo brano, oltre i 5.000 manoscritti che noi possediamo tra l'inizio del II secolo e il V secolo, in questo brano non c'è mai nessuna variante testuale. Non c'è mai un manoscritto che scriva Camilos, in tutti c'è Camelos, cammello, quindi nessuno mai è stato tentato di creare la variante corda. Questo ci sta a dire allora che gli antichi che conoscevano le mura di Gerusalemme meglio di noi dicevano sì, il paragone è corretto. Ci siamo? E quindi non pensiate più male, perché molto spesso qualche sapientone poco intelligente dice se questo è il cristianesimo che tenta di far passare il cammello per la cruna di un ago, sì ma la cruna di un ago è una porta delle mura di Gerusalemme.